Ben trovati! Abbiamo visto come usare Xerte per realizzare Learning Object partendo dalla definizione di sequenze di pagine vuote che abbiamo poi dovuto riempire una ad una. Abbiamo dovuto metterci testi, immagini, suoni, video, interazioni abbiamo dovuto persino scrivere degli script, pur semplici ma comunque codici di programmazione per realizzare controlli sull'audio, sul video, sull'esito delle interazioni, eccetera insomma abbiamo dovuto faticare parecchio. C'è una buona notizia, soprattutto per i più picri o per chi non desidera impelagarsi con codici e script astrusi la buona notizia è che noi possiamo definire Learning Object con Xerte usando modelli di pagine che vengono chiamati templates i template sono una specie di mattoncini, come dei mattoncini Lego specializzati nell'assolvere una specifica funzione usando i quali, configurandoli opportunamente, assegnando i valori, i parametri, le opzioni che ogni template prevede, noi possiamo assemblare e costruire in maniera più semplice e più raffinata anche il nostro Learning Object. Esistono modelli di pagine specializzati nel contenere ad esempio immagini e testi, video e testi con l'aggiunta magari anche di audio, opzionale. Abbiamo modelli di pagine che possono visualizzare direttamente dei video che sono presenti su YouTube o che gestiscono interazioni raffinate, potenti, come il drag and drop clic e trascina, o i quiz a risposta multipla e così via tutto in maniera quasi automatica dobbiamo soltanto toccare qualche pulsante, inserire dei testi e poi se la vede exerte a produrre tutti gli elementi che poi visivamente definiscono il contenuto della pagina e ne gestiscono anche le funzioni il feedback, il click eccetera bene, allora vediamo come si fa un Learning Object in modalità template, come lo si crea da templates seleziono la voce page templates, modelli di pagina e ora mi accingo a creare un Learning Object nuovo e lo creo in una nuova cartella LO template, ok, lo chiamo così e ora lui, exerte, sta trasferendo in questa cartella tutti i file necessari per poi supportare la definizione delle varie pagine ecco, ha già creato la mia cartella vuole sapere se ora voglio già aprire il progetto yes ecco mi viene presentata un'interfaccia simile a quella di Exerte però effettivamente è diversa perché ora da qui, da questo pannellino questo Exerte template wizard letteralmente il mago per la creazione di Learning Object in modalità template di Exerte io devo semplicemente attribuire le proprietà generali al Learning Object e poi decidere per ogni pagina il tipo di pagina cioè il modello di pagina che voglio usare e ogni pagina è specializzata per un certo tipo di contenuto o di funzione e di quel modello poi dovrò semplicemente poi dopo limitarmi a specificare i parametri alcuni sono obbligatori come questi e altri sono opzionali queste optional properties sta a indicare proprio questo ora vedrete che i modelli di pagina e le etichette saranno in inglese sto completando la traduzione italiana non appena sarà finita ve la fornirò così potrete interagire, utilizzare questo wizard in italiano per alcuni potrebbe anche essere meglio dunque questo è il titolo che devo dare al Learning Object il castello del monte scusate se insisto su questo tema un esempio vale l'altro ok questo è il titolo andiamo a inserire una prima pagina le graphics and sound ecco ho inserito la pagina di questo tipo e questi sono i parametri obbligatori i cui valori devo specificare per questo modello di pagina il titolo ad esempio esploriamo il castello del monte il testo è opzionale in realtà io potrei anche non mettere nulla quindi lasciarlo in bianco oppure scrivere un testo di accompagnamento all'immagine sorvola questa immagine e cerca un intruso ora seleziono l'immagine posso lasciare l'allineamento del testo a sinistra quindi il testo sarà a sinistra l'immagine sarà a destra dico che l'immagine dovrà essere a dimensioni automatica cioè si adatta automaticamente alla dimensione del del riguardo dell'owning object vado a selezionare l'immagine avevo predisposto in una cartella materiale avevo già messo una serie di immagini suoni che andrò a usare in questa lezione di esempio ho preso un'immagine del castello del monte molto grande un'immagine guardate 2272x1704 pixel quindi ad alta risoluzione adesso capirete perché vado insieme all'immagine qui metto il tooltip magari scrivo esplorami ecco ora guardate cliccando su play io posso già vedere in anteprima il mio learning object come sta venendo ecco questa è la copertina con il primo link alla pagina che ho appena creato clicco ed ecco qua sorvola quest'immagine e cerca un intruso ecco questo il tooltip appare quando io con il mouse sorvolo l'immagine ora per rendere più interessante questa idea dell'esplorazione della ricerca dell'intruso più che cerca e trova vediamo trova l'intruso è meglio ecco raggiungo un parametro opzionale quindi qui in optional properties io posso selezionare tra i vari parametri con cui arricchire questo modello di pagina questo magnifier è opzionale in pratica è una lente di ingrandimento clicco su add attivo questa lente di ingrandimento clicco su play vado a aprire l'immagine eccola qua e ora vedete che succede quando sorvolo l'immagine il mio mouse diventa una sorta di lente di ingrandimento con cui ecco ora più senso l'idea di esplorare l'immagine questa tecnica che può essere applicata è applicabile in tutti i casi in cui si vuole suggerire un'analisi dettagliata di un'immagine un dipinto una costruzione architettonica e così via torno indietro ecco sempre opzionalmente noi possiamo aggiungere tra i parametri opzionali un narration questo narration clicco su add sta a rappresentare in pratica una musica di sottofondo vado a selezionare la musica il file mp3 questo qui che mi ero anche questo preventivamente preparato ecco clicco su play e vedo un'anteprima ecco qua chiudo questa finestra di debug che si può alle volte aprire quando vedo l'anteprima il debug mi serve per avere un'idea di alcuni eventuali messaggi d'errore eccetera la chiudo intanto non viene visualizzata l'utente finale e qui c'è il paneo di controllo del suono il suono non parte automaticamente in lezioni successive vi farò vedere come possiamo anche modificare questo comportamento dando anche la possibilità di avvio automatico dal suono anche se non è sempre una buona idea far avviare in modo automatico suoni e musiche comunque do il play il suono procede un attimo volume ecco questo suono accompagna la mia esplorazione il mio obiettivo è quello di trovare l'inteso l'inteso dove sarà ormai quest'inteso eccola qui una turista o un turista insomma qui non si capisce molto bene eccola qua l'inteso l'ho trovato bene e non indietro ecco questo è l'esempio di modello di pagina del tipo graphics and sound testo immagine suono un'esempio attimo Grazie a tutti